Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo L'orologio che andremo a sviscerare oggi è il Breitling Avenger Avenger, una collezione che ha più di 20 anni è stata collocata nel catalogo di Breitling molto molto tempo fa e diciamo che questa nuova livrea con cui escono dal 2023 è qualcosa di leggerissimamente differente anche perché prima erano solamente da 43 mm, questi nuovi sono da 42 mm parlo però del solo tempo perché l'intera collezione Avenger è composta da Cronografo, un GMT da 44 mm e questi solo tempo Diver da 42 mm che sono disponibili verde, blu e nero chiaramente io preferirei o il blu o il nero che sono i colori un pochino più sobri che si addicono alla mia persona ma ho scelto quello verde, ho scelto quello verde perché come è nata, ecco è anche curiosa come è nata sta cosa qua perché mi sono passati così inosservati, sono usciti e io non li ho calcolati come si suol dire poi sul mio gruppo Telegram, ciao ragazzi del gruppo Telegram, un amico del gruppo ha postato questo Avenger verde e io ho detto ma sto qua è nuovo, non l'ho mai visto, mea culpa che non l'avevo mai visto poi coincidenza sono andato in negozio da Giacomo Pasquale Domenici di Viareggio abbiamo fatto un video sugli orologi, sulle domande e risposte e qualcuno ha chiesto di questo orologio ed è saltato fuori lo stesso modello verde che aveva pubblicato quella persona sul mio canale quindi ho detto uno più uno fa due, è proprio il segno del destino che devo prendere questo verde ho preso quello verde anche se non è tra i miei preferiti nel senso per questo il blu o il nero e quindi l'ho preso, l'ho portato qua, chiaro che mi piace, mi piace la forma, mi piace l'aspetto mi piace anche il colore volendo che è quello che va di moda ora, però avrei preferito il nero o il blu e l'ho portato qua per farvelo vedere, per fare una panoramica sul canale, non è vale la pena Breitling è sempre Breitling e un orologino un po' diverso dai soliti, no? Cronomat, Super Cronomat, Cronomat GMT, finalmente Navi Time, quelli lì un diverino simpatico da sfrocugliare chiaramente come ho detto me l'ha messo a disposizione un amico Giacomo che è titolare della gioielleria Pasquale Domenici che è partner ufficiale del canale e che oltre a mettere a disposizione a me gli orologi che interessa recensire, panoramicare, no? è un orologismo, non andate a scrivere sotto i commenti non si dice panoramicare, lo so, è una buttata quindi mi mette a disposizione gli orologi ed è concessionario del marchio quindi offro un occhio di riguardo a voi che seguite il canale a proposito c'è anche il codice canale qua sotto, così siamo tutti contenti prima di guardare l'orologio però vi mostro l'orologio del giorno che oggi è ancora una volta l'Omega Speedmaster, il Moonwatch che con questo cinturino qua in coccodrillo del Nilo Nabuc mi ha svoltato diciamo che me lo ha fatto apprezzare maggiormente rispetto al bracciale cosa strana perché io sono un amante di bracciale un estimatore dell'orologio braccialato l'orologio braccialato per me è il massimo e in questo caso invece con il bracciale mi lasciava un po' perplesso con questo cinturino che a proposito l'ha realizzato l'amico John Cole Straps che fa i cinturini artigianali sua idea proprio perché io non gli avrei mai dato una lira questo cinturino qua ha detto facciamolo così, così e così e da fare un po' come vuoi te e alla fine ha avuto ragione perché è venuto fuori un signor cinturino che me lo fa apprezzare maggiormente giriamo la camera, diamo uno sguardo al Breitling Avenger e poi ci ritroviamo qui come al solito per le conclusioni personali diamo il là alla panoramica iniziando a tenere in considerazione i risultati ottenuti dalle misurazioni effettuate sul campo diametro cassa 42 mm ingombro trasversale al polso 50 spessore 12.2 mm e interasseanza da 22 mm un diver con tutti i crismi del diver dimensioni comprese nulla di particolarmente esagerato ma al polso si mette bene in mostra non tanto per i 42 mm che di per sé risultano normali per questa tipologia ma per il lug to lug di 50 mm che riempie bene la larghezza e che potrebbe essere eccessivo per chi ha un polso piuttosto piccolo ma in fin dei conti è un orologio sportivo da immersione e un po' di apparenza oversize ci sta tutta sono le ansie che possono essere considerate responsabili dell'ingombro ma allo stesso modo è proprio la loro lunghezza caratterizzare fortemente l'impronta stilistica dell'insieme l'estensione generosa permette di mettere in mostra un dettaglio che altrimenti rimarrebbe in ombra in luogo del classico bisello di separazione qui troviamo una scanalatura sinusoidale che corre lungo tutto il profilo cassa va da sé che più consistente è il lug to lug e più questa peculiarità verrà messa in evidenza si forma un vero e proprio scalino tra il dorso ansa e il lato carur e anche se tutte le superfici appaiono satinate questa scanalatura risulta bene evidente in quanto sembra quasi sabbiata di quel grigio rugoso particolarmente percepibile dopo una micro pallinatura insomma un insieme di superfici spazzolate che farà felici gli estimatori dell'orologio da usare come strumento vorrei far notare che sull'orologio sono presenti le pellicole di protezione che essendo numerose e segmentate possono trarre in inganno naturalmente ho preferito lasciarle confidando nella vostra capacità di osservazione ma torniamo all'orologio perché ci sono alcuni dettagli che mirano ad impreziosire il colpo d'occhio è vero che la globalità visiva ci restituisce una completa sensazione di opacità ma è anche vero che vi sono alcuni punti che brillano per lucentezza e che donano quella capacità di trasformarsi in oggetto di prestigio sto parlando del bordo ghiera delle superfici verticali dei cavalieri e dell'anello che si frappone tra vetro e ghiera piccole superfici che però riescono a venire fuori quando si inclina leggermente il polso sono quei particolari che apprezzo particolarmente perché conferiscono allo strumento orologio quel tocco di leziosità che ci si aspetterebbe da un oggetto costoso e di pregio ma anche la corona di carica segue lo stesso schema lucida la faccia esterna opaca e zigrinata alla superficie laterale devo dire che la manovrabilità è eccellente e che la sensazione percepita durante la rotazione è fluida e con la corretta resistenza degli ingranaggi insomma è piacevole ma vorrei tornare indietro di qualche passo per completare la descrizione stilistica dell'insieme la ghiera è sicuramente l'elemento che caratterizza maggiormente il design quei quattro cavalieri in rilievo confermano senza ombra di dubbio l'appartenenza alla famiglia Breitling possono piacere o meno ma sono un classico segno distintivo sin dai tempi del Cronomat e del Callisto a differenza di altre case Breitling ha optato per una realizzazione monoblocco si vede chiaramente che i quattro cavalieri fanno parte della struttura e sono quindi ricavati per asportazione materiale i soldoni non rappresentano un punto critico in quanto non possono staccarsi dalla ghiera in caso di urti molto particolare è poi il sistema di fissaggio della ghiera stessa vi sono 8 micro viti lucide piazzate sulla circonferenza esterna con il compito di tenerla in sede riesco sempre ad apprezzare questo tipo di soluzioni in quanto mi danno l'idea di meccanica pura di cose avvitate ad altre cose di esplicita dimostrazione di come è fatto un dato elemento ovviamente è anche una ghiera funzionale monodirezionale a 120 scatti e piacevolmente manovrabile come si vede il dot ad ore 12 è realizzato in super luminova in modo da rappresentare correttamente il punto di riferimento per i tempi di immersione sì perché si tratta di un diver 300 metri con corona vite e fondello avvitato alla cassa un fondello cieco che non mette in mostra alcuna lavorazione particolare è tutto completamente liscio e spoglio volendo guardare il bicchiere mezzo pieno diciamo che riesce a darci un'idea di insolidità e pragmatismo senza fronzoli sicuramente meglio di un fondello trasparente che avrebbe poi messo in mostra un calibro di fornitura semplice e alquanto comune com'è l'ETA 2824 sì perché nonostante in molti casi in casa Brightling si possano trovare dessellita in questo caso abbiamo un'ETA 2824 perlomeno stando alle specifiche del sito web ufficiale e delle recensioni dei maggiori portali del settore 25 rubini 28.200 alternanze orarie e 38 ore di riserva di carica da rimarcare che come sempre Brightling utilizza le versioni certificate e cronometro si tratta quindi di un calibro COSC decorato, rifinito e certificato meno 4 più 6 secondi al giorno ma giriamo l'orologio e torniamo al lato A diamo uno sguardo al quadrante un verde neutro opaco che rappresenta un po' la tonalità in voga in questi ultimi anni ma esiste anche nero e blu due scelte più conservative che possono rappresentare una valida alternativa ma qualsiasi sia il colore scelto ciò che non cambia è l'eccellente leggibilità la semplicità degli accenti posti sul dial va ad equilibrare l'estrosità barocca della ghiera indici rettangolari sfere a matita e classico triangolo ad ore 12 sono tutti applicati in rilievo ed andando ad ingrandire si nota che tutta quella essenzialità non corrisponde ad una realizzazione banale abbiamo due segmenti in acciaio satinato con al centro una sottile lingua di pigmento luminescente niente cornice di contenimento e nessuna concessione a scintilli di sorta ogni elemento del quadrante è opaco ad eccezione della B di Breitling ad ore 12 che campeggia preziosa come siamo abituati a vedere nell'insieme si tratta di un quadrante sobrio ben leggibile che come la cassa mette in mostra qualche raro scintillio finalizzato ad apprezzare maggiormente il pregio realizzativo personalmente trovo poi accattivante la punta freccia della sfera secondi laccata in rosso e con il superluminova nella parte interna pigmento che dà poi il meglio di sé in assenza di luce laddove sia la freccia che gli altri markers appaiono ben visibili ogni elemento propedeutico alla lettura dei tempi reagisce positivamente dot sulla ghiera compreso non rimane che di squisire a riguardo del bracciale e qui Breitling si conferma al top della categoria ma partiamo prima dal design un tre segmenti separati che vede nel taglio obliquo delle maglie il proprio punto di forza uno stile facilmente riconducibile a Breitling e che riesce ad unire le forme classiche con un minimo di originalità ben dimensionato in spesso acciaio inox e con dei perni a vite di dimensioni generose come raramente si trovano occorre dire che ogni maglia singola è piuttosto lunga e che non vi sono mezze maglie il tutto è giustificato dal fatto che è presente una regolazione fine integrata alla clasp un sistema ingegnerizzato a scomparsa che consente una escursione in lunghezza di ben 17 mm una enormità basta premere il pulsante per sbloccarla e farla scivolare un'escursione così ampia può essere utilizzata non solo per la regolazione fine ma anche per indossare l'orologio al di sopra degli indumenti o perlomeno nella maggior parte dei casi possiamo tornare presa diretta per le considerazioni finali eccoci qua per le conclusioni finali diciamo qua c'è la mia tabellina per ricordarmi le cose qua c'è l'orologino cosa dire è promosso? fate un po' voi se non è promosso un Breitling per me i Breitling sono tutti promossi Breitling senti come viene proprio alla cattiva alla Svizzera viene fuori allora i punti negativi incominciamo dai punti negativi il calibro ci mettiamo il calibro un calibro di fornitura d'altronde io ho già dimostrato che se un orologio piace non ci si può fermare al calibro di fornitura certo se c'è un calibro esclusivo un bel calibro in house come si suol dire fa piacere e Breitling li fa però in questo caso c'è il calibro di fornitura come ho io il Cronomat GMT con il calibro di fornitura all'interno poco male un altro punto negativo quale può essere il fondello che è completamente liscio anonimo meno male che intanto c'è il fondello chiuso perché si poteva anche rischiare di averlo trasparente con il calibro a vista intanto è già chiuso però è liscio poi però ci hanno insegnato anche che vedi Rolex e Tudor che il fondello liscio completamente anonimo può diventare anche un segno distintivo nessuno si preoccupa di dire a Rolex disegnaci qualcosa disegnaci una macchinina dietro nessuno quindi anche questo come punto negativo siamo lì un altro punto debole potrebbe essere io ve li metto lì perché poi dopo anche questione di interpretazione il quadrante è anonimo il quadrante è semplice non porta con sé nessun segno distintivo particolare potrebbe essere quello di un altro di qualsiasi altro orologio però diciamo che per un quadrante così semplice anonimo voglio ribadire c'è tutto il resto intorno che è veramente identificativo la ghiera con i cavalieri che è propria di brightening il bracciale con le sezioni oblique insomma c'è tutto un insieme di originalità e di anche estrosità lasciatemelo dire che poi anche il quadrante se torna a essere un pochino più sempliciotto ci sta punti positivi beh la qualità generale di brightening non ci si scappa finiture di primordine anche se ci sono le pellicole le avete viste non le ho tolte e possono magari trarre in inganno le varie spaccettature però la qualità generale la leggibilità dello stesso quadrante il suo punto negativo essere anonimo il punto positivo è che è leggibile alla grande questo verde è come gli altri su questo non si scappa e questo a me fa sempre piacere poi il calibro che se era un punto negativo negativo tra virgolette un punto debole qua diventa un punto forte perché è certificato COSC come tutti i calibri brightening quindi anche in questo caso voi avrete una precisione dichiarata garantita nel momento in cui acquistate questo orologio e questo fa piacere potete avere anche un calibro leggermente più raffinato più decorato più testato poi cosa abbiamo il bracciale e il bracciale qua siamo di nuovamente nel top perché la qualità con i perni a vite ben dimensionati lo spessore del bracciale il design e poi questa chiusura ingegnerizzata che ti permette di indossarlo e avere una regolazione millimetrica anzi micrometrica oserei dire ben 17 mm è tanta roba cioè io per esempio con tutte le maglie del bracciale e la regolazione al minimo mi sta perfetto quindi significa che quando mi si ingrandirà il polso d'estate posso allargarlo leggermente senza togliere nemmeno una maglia chiaro che chi ha il polso più piccolo dovrà togliere una o due maglie e poi giocare su quei 17 mm che ci vai dove ti pare insomma in conclusione orologio promosso ottimo orologio con una sua personalità propria di brightling con i cavalieri così siamo abituati a vedere il cronomat e che quindi secondo me può rappresentare quel brightling in collezione per diversificare a molti di noi piace avere un orologio di ogni marchio e se uno volesse un brightling in collezione questo qua può essere quello adatto come per me lo è stato il cronomat gmt pur avendo il calibro di fornitura e pur avendo il calibro di fornitura un brightling in collezione ci può stare ragazzi boh mi sembra di aver detto tutto io vi ringrazio per essere arrivati fino qua aver guardato il video fino in fondo spero vi sia piaciuto il video l'orologio il presentatore il contesto e il microfono e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love iscriviti al canale ciao ciao Grazie a tutti.